quando c'è vento non si può filmare perché c'è un albero fuori la mia finestra che fa proprio e mi tappa la luce, mi fa entrare troppa luce che domo fa ciao a tutti sono roxy e siamo nel 2015 che avete fatto a capodanno fatemelo sapere nei commenti e in questo video vi volevo mostrare quello che ho ricevuto a natale e iniziamo con i regali che mi sono fatta da sola perché non c'è niente di male e la prima cosa che mi sono regalata è l'agenda di Erin Condren che vi ho fatto anche vedere nei preferiti di dicembre ed è super super colorata, ha tantissime sezioni, gli stickers che sono importantissimi e quindi la adoro e ve la farò vedere in un video a parte poi mi sono regalata un rossetto lilla e ho scelto quello della NYX che poi non costa neanche tanto, tipo 6 dollari credo ed è bellissimo e mi sono anche regalata questo rossetto nero della Lime Crime questo non è economico e lo adoro, non so se mi piace di più quello lilla o quello nero questo è il packaging e credo che questo packaging così iridescente sia una versione limitata perché è il sesto anniversario e all'interno è fatto così, super carino e questo nero si chiama stiletto o stailetto ed è bellissimo perché non è solo nero ma ha come dei riflessi metallici e quindi è stupendo ed ora passiamo ai regali di amici e parenti che sono tutti mischiati diciamo per prima cosa mi hanno regalato due gift card di Starbucks se non sapete cosa regalarmi regalatemi Starbucks e queste mi salvano la vita e anche il mio conto in banca perché io adoro Starbucks sulla stessa onda delle gift card che io adoro mi hanno anche regalato un pound di cioccolata o di caramelle sarà cioccolata perché adoro la cioccolata da Seas Candies e se non ci vado oggi ci vado domani ma comunque gli farò una foto a questo pound di cioccolata o caramelle perché credo che sia tantissimo e poi la metterò su Instagram e ultima gift card che è quella che mi ha sconvolto di più la vita è una gift card di Forever 21 di 100 dollari e io amo Forever 21 è sicuramente il mio negozio preferito e ero troppo emozionata quando l'ho vista l'ho già utilizzata perché il giorno dopo averla ricevuta sono andata sul sito di Forever 21 e c'era un 50% di sconto che è tantissimo però qualcosa dentro di me mi diceva no, non comprare oggi, aspetta e mi sono fidata del mio istinto come al solito e il giorno dopo ho arrivato sul sito e c'era il 75% di sconto e quindi mi sono impazzita aggiungi al carrello, aggiungi al carrello, aggiungi al carrello, aggiungi al carrello e ho comprato tipo 20 cose che mi arriveranno la prossima settimana fatemi sapere se volete che apra la scatola insieme a voi e volete che vi faccia vedere che cosa ho comprato che poi faccio un video haul cioè le magliette erano a 2,99 no, le ho comprate tipo 7 poi una mia amica mi ha comprato questo portagioie tipo che è fatto a sezioni così che le potete mettere in un cassetto tutte vicine così diciamo oppure le potete incastrare una sull'altra come ho fatto io ed è rose gold quindi rosa oro oro rosa ed è fantastico per metterci appunto le collane poi ha una sezione un po' più piccolina così per gli orecchini braccialetti ed è troppo 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 carina poi dato che io non compro niente per la casa mia mamma ha pensato che io avessi veramente bisogno di un copritavola natalizio che ho utilizzato durante queste feste un sacco lo devo ammettere e poi dato che io non uso gli asciugamani normali perché danneggiano i capelli andrebbero usate solamente le magliette di cotone o le cose in microfibra solo che le cose in microfibra costano invece le magliette di cotone le avete a gratis a casa però mia mamma ha deciso di comprarmi questo turbante in microfibra per i capelli che è super carino ho anche ricevuto questo orsetto della mac che si chiama spirit che è bellissimo in camera sembra molto più chiaro di quello che è in realtà è un marrone scuro con un sottotono freddo bellissimo, veramente bellissimo io l'avevo vista una ragazza e l'ho fermata per strada per chiedergli che cosa aveva perchè era troppo bello e poi lei mi ha detto spirit me lo sono segnato e alla fine l'ho ricevuto a natale con anche la matita per le labbra che ci va insieme diciamo e questa è absolutely it e insieme sono fantastici ho ricevuto anche questa borsa nera di target molto carina ha tantissimi scompartimenti e taschine così e mi piace perchè è spaziosa ma non è troppo gigante diciamo e anche la tracolla che è super comoda poi ho ricevuto questi calzini super morbidi e caldi con il pinguino o la pinguino perchè mi sembra una femmina e questi calzini barra stivali barra ciabatte per stare a casa con le scimmie e i pom pom anche questi super caldi e super carini poi ho ricevuto questo braccialetto di pelle credo con questo dettaglino in legno che mi piace tantissimo ed è fatto a mano e poi ho ricevuto questo pupazzetto di neve troppo carino di Bath & Body Works che anche l'ha presa ed è uno di quei cosi che si attacca al muro e vi improvfuma la stanza e questa è la fragranza di Bath & Body Works che si chiama Warm Vanilla ed è troppo 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 buona e poi questo pupazzetto di neve è troppo carino ragazzi così adesso ho le candele di Bath & Body Works li spray e anche il coso da attaccare al muro che non so come si chiama poi ovviamente ho ricevuto un po' di soldini che quelli fanno sempre comodo e siamo 27.000 grazie 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 per seguirmi qui su youtube siete fantastici e spero ovviamente che abbiate passato delle bellissime vacanze e che continuiate a passare delle bellissime vacanze fatemi sapere nei commenti che cosa avete ricevuto voi per Natale perchè con questo scambio di informazioni ci vengono idee per futuri regali io faccio un nuovo video ogni domenica e giovedì e non dimenticatevi di iscrivervi al canale mettere mi piace commentare condividere il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima ciao grazie per essere rimasti fino alla fine 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 qui vi lascio altri due video i vostri tweet sono qui sotto e lo sapete mando tanti tanti bacini mua 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 e un abbraccio virtuale a tutte queste personcine e se volete anche voi apparire qui sotto basta che mi mandate un tweet su twitter utilizzando e hashtag roxyroxyroxyb inoltre se non siete ancora iscritti vi lascio qui sotto il magico pulsantino con scritto subscribe e basta che ci cliccate e inizierete subito a far parte del canale più felice della terra roxyroxyb ancora buon anno e noi ci vediamo alla prossima ciao mua 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 mua